Ciao, mi chiamo Calogiro Valenza, sono un major account manager in Jabra Italia da un po' di tempo ormai. Siamo qui oggi all'audio-video controllo 2022 per dire un po' la nostra. In questi due anni, ormai quasi tre anni, il modo di lavorare è cambiato tantissimo. Già prima del Covid si iniziava a parlare un po' di megatrend, quello che è avvenuto invece si è verificato una specie di accelerazione su tutti quelli che erano appunto i nuovi modi di lavorare. E' cambiato tantissimo il nostro approccio, l'approccio di tutti gli utenti al mondo del lavoro ed è importante che in qualche modo anche la tecnologia vada ad assecondare quelli che sono i cambiamenti all'interno dei nostri approcci. Quindi le nostre soluzioni sono sempre più vicine a quelle che sono le richieste appunto degli utenti ed è importantissimo soprattutto stare vicini al mercato, cioè sapere che cosa mano a mano ci stanno chiedendo. I trend sono tantissimi, c'è il trend del video, c'è il fatto di potersi vedere in faccia anche se virtualmente, c'è il fatto che adesso si tende a collaborare tantissimo nell'arco della nostra giornata ma a lavorare soprattutto con dei team che sono mano a mano più ristretti. Ecco, è importante che la tecnologia in qualche modo assecondi questi trend con delle soluzioni sempre più aggiornate e soprattutto che risultino flessibili.